Io sono Elisa, di Salvatore, e siamo De Oro De La, e stiamo facendo questo laboratorio al liceo Righi e cerchiamo di proporre ai ragazzi un'infarinatura su tutto ciò che è videoarte e performance. Sì, stiamo proponendo quello che ci ha fatto scegliere di fare questo lavoro, comunque di creare le nostre opere tra videoarte e performance. I ragazzi creeranno dei video, stanno accumulando del materiale tra riprese fatte qui a scuola e altre fatte in luoghi che per loro hanno un'importanza. Infatti il tema di quest'anno è il rapporto di se stessi con lo spazio e alla fine si procederà ad un montaggio o di un'opera collettiva oppure di una singola opera per ogni ragazzo. Quello che cerchiamo di fare è quello di spostare un po' il loro punto di vista sul quotidiano, sulle azioni, sui luoghi che loro frequentano, cercando di fargli un po' aprire la percezione sulle cose che magari non sempre vedono, sulle quali non pongono attenzione.